Durante questa riunione dell'Onda G, Ennio, un partecipante del Cenacolo che qualche mese prima era trapassato in Egitto al Cairo per morte violenta, apporta a Luigi Nardi questi due piccoli cuori che, se uniti, formano un cuore unico. Ennio in vita era un appassionato di pietre preziose. Nell'agape che precede la trans a Luigi, come a tutti i nuovi partecipanti, era stato detto di proporre un argomento di cui parlare e lui aveva scelto il matrimonio perché il suo attraversava un momento difficile. Poi, nel corso della trans, l'apporto si materializza quando il respiro della medium diviene più affannoso. Al termine della riunione tra i piedi dei partecipanti troviamo i due cuoricini di cristallo e li fotografiamo nelle mani di Luigi. La pace sia con voi maestri maestri cariamici maestri il maestro Agno è qui con noi il maestro Agno . Grazie. Partecipa al gruppo con voi. Ed è questo il suo modo. Per contattarvi e offrire. Il suo cuore ai suoi amici materialmente ha portato in dono. Due piccoli cristalli a forma di cuore. E li offre in dono a un amico nuovo. Uno per lui. E uno per la sua sposa. Poiché ha portato l'argomento del matrimonio. Maestri. Straordinari amici. L'alchimia. Che esiste in una coppia. E che materialmente viene sperimentata. Nella materialità. Attraverso il matrimonio. L'incontro. L'unione. È la ricerca stessa. Delle creature. Che vivono la dualità. Per coniugarsi. Per diventare uno. Grazie.